Oltre 1.245.000 unità vendute nel mondo, quattro generazioni di vetture che hanno portato innumerevoli innovazioni, giocando un ruolo di pioniere all'interno di un segmento inventato nel 1984. Sono queste le credenziali di un modello icona come Renault Espace, che celebra proprio quest'anno il suo trentesimo anniversario. Per tre decenni Espace è stato sinonimo di modulabilità e spaziosità degli interni, raffinatezza degli equitaggiamenti, comfort di guida e performance da berlina di classe. Oggi Renault Espace, che per molti anni col suo nome ha identificato il segmento, come avviene solo nel caso dei modelli più iconici, rappresenta ancora una vettura unica nel suo genere.